amiche amici di verde matese continuiamo con le nostre tradizioni ci troviamo in qualità ballata e siamo con l'ideatore l'organizzatore di questa seconda festa del catuozzo un motivo prima di tutto buongiorno buongiorno a tutti un motivo perché gli amici che ci seguono devono essere qui in questa festa e perché praticamente non per essere presuntosi però penso che questa festa almeno nel nostro circondariato è una delle feste più tradizionali più caratteristiche che si siano mai viste fatte nella nostra zona ecco c'è la passione c'è la tradizione c'è un lavoro un lavoro molto duro per una vita queste persone sono hanno vissuto in montagna nascoste dentro i boschi diciamo e ecco io fortunatamente sono riuscito a portarli alla luce alla luce del sole dove tutti possono vedere appunto queste tradizioni che purtroppo non ci sono più e quindi anche scoprendo queste tradizioni anche per loro un pezzo della storia e soprattutto anche per loro si avvicinano periodi duri di crisi perché per anni loro hanno vissuto hanno proprio portato avanti le loro famiglie con questo lavoro quindi diamo l'appuntamento dal 21 all 11 settembre dal 21 agosto all 11 settembre questa non stop con in località Pioppetelli in località Pioppetelli va bene ciao grazie arrivederci a tutti mi raccomando non mancate grazie! alla prossima a